Cominciata la campagna vaccinale anti-influenzale che quest'anno è diversa dagli altri anni perché può essere corroborata insieme alla vaccinazione anti-covid per le terze dosi. La popolazione sembra ancora un po' diffidente ma abbiamo sentito il parere dell'esperto, il dottor Grisillo. La campagna di vaccinazione anti-influenzale è appena iniziata, però in questo momento i medici di medicina generale hanno a disposizione nei loro ambulatori sia il vaccino potenziato, chiamiamolo così, per le persone di una certa età oppure per le persone fragili, sia quello ordinario, cioè il quadrivalente ordinario e il quadrivalente adiuvato. Quindi non ci sono ostacoli dal punto di vista della fornitura dei vaccini al fare la vaccinazione anti-influenzale. È corretto fare anche insieme i due vaccini anti-covid e anti-influenzale perché non danno grossi problemi. Possono dare come tutti i vaccini un po' di dolenzia locale, magari due linee di febbre facilmente dominabili con un antipiretico. C'è una certa, non resistenza, ma erronea informazione dei cittadini che pensano che hanno fatto l'anti-covid e quindi sono protetto. Non è così, va fatto anche l'anti-influenzale. Anzi, va fatto a maggior ragione perché prendendo l'influenza si impegna il sistema immunitario contro l'influenza e si riducono le difese contro un'eventuale infezione da covid. Quindi è estremamente importante fare sia l'anti-covid sia l'anti-influenzale. In caso di dover scegliere di farli in tempi separati, cosa altrettanto valida, e allora una quindicina di giorni fra le due somministrazioni, è necessario fare per prima la vaccinazione anti-covid perché il covid sta circolando ora. L'influenza ha iniziato adesso ma il picco è previsto per fine dicembre-gennaio come tutti gli anni. E quindi la lotta principale adesso è all'anti-covid. Vanno fatte però anche le terze dosi perché è estremamente importante. Tra l'altro devo dire onestamente che non trovo nessuna razionalità e nessuna logica in una persona che ha fatto due dosi e non fa la terza. Anche perché nelle persone più fragili, nelle persone di età più avanzata, il sistema immunitario funziona a scartamento ridotto e quindi la copertura anticorpale contro il covid si riduce più rapidamente, dopo sei mesi è possibile che in queste persone la copertura sia scarsa. Quindi va richiamata con la terza dose. La popolazione sembra più diffidente e forse meno orientata alla somministrazione della vaccinazione anti-influenzale e alla terza dose anti-covid, anche se la richiesta negli ultimi giorni sembra timidamente in crescita. Allora, la richiesta c'è. Non è una richiesta come c'è stata per la prima ondata quando la popolazione era stata presa dall'ansia e quindi tutti si volevano vaccinare subito. Dovete tenere presente anche che oggi l'accesso al medico di medicina generale avviene tramite prenotazione, quindi non ci sono più le folle fuori dall'ambulatorio che vogliono vaccinarsi. I pazienti devono telefonare al proprio medico, prendere appuntamento e gli viene cadenzato il momento in cui vanno a fare le vaccinazioni. Però non mi risulta che ci siano grossi rallentamenti. Tenete anche presente che il medico durante la settimana non fa solo le vaccinazioni, fa anche altro. Anzi, in questo periodo dove c'è una ripresa di patologia stagionale non influenzale, dove si deve continuare a tenere sotto controllo le patologie croniche, eccetera, è chiaro che più che tante vaccinazioni alla settimana non c'entrano.